Sì, lo pensavo anch'io Questo è grave Molto, molto grave Perché dopo tutti gli altri troll face quest Che non so sinceramente quanti ce ne siano Ma un bel po' Ne hanno fatto un altro Troll face quest video game Non va bene, non va assolutamente bene Mi sa che questi, questi troll face non finiranno mai Quando finirà il mondo continueranno ad uscire Troll face quest Ma cominciamo allora Regà, l'obiettivo di questo gioco è trovare I vari easter egg Per andare avanti Allora, suppongo che non si debba andare avanti Ecco, lo sapevo Quanto è bello, quanto è bello quella faccia Cosa vuol dire? Sembra che deve tirare un cagone Sì zio, lo pensavo anch'io Cosa dovrei fare nella vita? Regà, ci devo un po' ragionare Perché devi trovare i vari I vari oggetti Che ne so Ah, c'è una bomboletta qui Oh oh Ce l'abbiamo fatta Ma cosa ridi? Cosa ti ridi? Va bene, prossimo livello Attenzione Ok Suppongo non debba mangiare la torta Questo ne sono più sicuro E in mano ha un'arma distrutto Ma ne che cavolo è quella roba? Cosa? È spuntato uno scarafaggio che ha scordeggiato Vabbè, vabbè Cosa? Ah, ma è la pistola di Portal Oddio No Ah, infame Quindi ora posso soffiare la candela Bene Troppo difficile Allora Questo qua non so che gioco è Di sicuro non è una di queste Ma io le apro lo stesso perché sono idiota E infatti Cosa? Qual è l'aster egg? Non capisco Cosa devo fare? Non ho capito un cavolo Io non ho capito Chi sei tu? Prima cosa E cosa devo fare con questa Questa cosa di merda? No Vabbè Ah, ho capito che gioco è Ho capito che gioco è Però non mi viene il nome Questo gioco non so cosa sia Ma cosa? Eh, bravo Li hai fatti incazzare Ma Ma ti sta bene Ma che cazzo Spunta un culo fuori dal fieno E lui continua a scoreggiare E a ridere ovviamente È volato Che cosa ridi? Ma Ma gli ho sparato Perché è diventato con gli occhi rossi? Ma dai Come si fa? Non so cosa fare No, perché? Oh Mio Dio Tre ore? E alla fine dovevo trascinare l'arma? E cos'è sta arma poi? Perché? Spiegatemi perché Ciao Salutami tua mamma Che gioco è questo? Non lo so Magari scrivetemelo anche voi nei commenti Se sapete che gioco è Ah ma è Minecraft Credo sia Minecraft E che cavolo di rumori fanno? Allora Allora pensiamoci Cosa ridi? Che cavolo ridi zio? Boh lui continua a ridere What the fuck? Ah 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 Oddio Cosa vai nella vita? Ah Uh 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 No vabbè è una cosa inquietante questa cosa Ma vieni qua invece di ridere Ah 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 È diventato una bici Che scoreggia va bene Oh mortal kombat No aspetta Cosa dovrei fare qua? Ma no Cosa ridi tu? E basta Ah ah Sono qui da tre ore C'è qualcosa di sicuro È solo che non la trovo Ho capito che devo trollarlo però Ah ah Non ti mettere in pausa No No non ci credo Ma cosa? Se doveva passargli i pantaloni per vincere? Cosa mai nella vita Che gioco è questo? Non lo so Devo arrivare a 100 No se mi trolli Io sto qua da tre ore Cosa? No sei un infame Devo trascinare qualcosa Guarda ci scommetto No Cosa ridi? No Infame Infame Ma no Vabbè dai Ma l'avevo cliccato Prima Dovevo cliccare quell'asticella Ma dai Allora Che gioco è questo? Non lo so Scrivetemelo nei commenti C'è una capra Bene Sopra un Cosa? What? Sul serio? Che cosa? Si lo pensavo anch'io Sul serio? Ho completato il gioco Con l'ultimo livello che veramente era il più bello Bene Per questo episodio è tutto Ditemi se volete anche gli altri episodi Quelli prima Che ce ne sono un bel po' Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto lasciate un viaggio e commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video Beh ragazzi Beh ragazzi Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video